La nostra regione sta per essere interessata dal passaggio di un fronte perturbato proveniente dal nord Europa, al quale si accompagna un minimo di bassa pressione che attualmente è posizionato sul tirreno centrale, depressione alimentata da aria relativamente fredda che affluirà sulla nostra regione nel corso della giornata di sabato, trasportata da intensi venti nord orientali. Ci apprestiamo dunque a vivere una fase di tempo dal sapore invernale dalla durata di qualche giorno. Ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo fine settimana. Sabato 21 novembre, cielo inizialmente molto nuvoloso sul settore centro-meridionale della regione, con piogge a prevalente carattere di rovescio, segnatamente sul Cilento e Vallo di Diano. I fenomeni potrebbero risultare particolarmente intensi nelle aree a ridosso dei rilievi più interni, dove non si escludono locali grandinate, nevicate in appennino al di sopra dei 1.400-1.500 metri. Ampie schiarite interesseranno invece i settori settentrionali della regione sin dal mattino. Schiarite che nel corso del pomeriggio si estenderanno alle rimanenti aree fino a determinare condizioni di cielo poco nuvoloso su tutto il territorio regionale entro la serata. Temperature in diminuzione, venti da moderati a forti da est-nord-est, con possibili raffiche di burrasca in alta montagna e in mare aperto. Stato del mare dunque in pessime condizioni a largo, mosso invece sotto costa. Domenica 22, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso lungo la costa, mentre addensamenti interesseranno le aree interne dell'appennino, ma con basso rischio di precipitazioni. Temperature in calo nei valori minimi della notte, in lieve aumento invece le massime. Venti inizialmente forti da nord-est tenderanno a diminuire di intensità nel corso della giornata. Mare mosso. Nei primi giorni della prossima settimana, con l'allontanamento della depressione verso il nord-Africa, avremo un deciso miglioramento grazie all'espansione dell'alta pressione delle azzorre verso la nostra penisola. Pertanto, almeno fino a giovedì 26 novembre, avremo condizioni di stabilità, con cielo che si presenterà prevalentemente sgombro da nubi. Tuttavia, la serenità del cielo favorirà estese brinate durante le ore notturne, nelle vallate e pianure interne. Sarà ammite invece nelle ore centrali della giornata, specie sui monti e sui colli. Ma, per maggiori dettagli, invito come sempre i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteogiuliacci.it Termino qui, da Giuseppe Stabile, un buon fine settimana.